Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e voglio presentarvi il nuovissimo campionato Formula Championship Raceroom, su Raceroom ovviamente, che parte settimana prossima e eccezionalmente le cinque date che saranno cinque settimane di fila saranno fatte il sabato alle 16, ma è un'eccezione veramente alle regole perché normalmente lo facciamo il venerdì proprio per impegni un po' di tutti e quindi abbiamo trovato queste date disponibili. Ci sono 22 posti disponibili che in realtà sono nove perché ci sono già 12 iscritti perché appena ho lanciato, neanche il tempo di fare il video, che si sono iscritti, quindi ragazzi correte se siete interessati a questo campionato che sarà strutturato come dicevo su cinque Tapper, Red Bullring, Sonoma, Raysway, Monza, Nur Bruring e Sepang, dove il primo appuntamento il 14 novembre, quindi la settimana prossima, sarà dedicato per la creazione di questi team, perché appunto sono team da due piloti, perché due piloti? Perché le scheme disponibili sono 11 e quindi non possiamo fare dei server troppo grandi, quindi facciamo una specie di Formula 2 a squadre da due con 11 skid per due fa 22, va bene, dopo tutti questi calcoli ragazzi avete capito, in cui ci sarà una classifica piloti, quindi per dar modo a chi vuole correre per farsi insomma il campionato e una classifica a squadre. La regola sarà sempre per quanto riguarda il punteggio Strongman, quindi sono 22 iscritti, si parte da 22, 21, 20, 19, 18 e via dicendo e poi tutto scritto sul forum ragazzi, quindi correte ad iscrivervi perché veramente manca pochissimo e si sta per esaurire il posto. Non esitate ad iscrivervi come riserve perché se qualcuno desiste potete subito entrare e questo onestamente è solo per prendere tempo oltre che a preparare qualcosa, a presentarvi qualcosa, proprio perché a gennaio partirà un campionato mostruoso, non mi anticipo nulla, su R Factor 2, seguito sicuramente da un altro campionato su Assetto Corsa Competizione. Quindi stay tuned, iscrivetevi a questo campionato, ci saranno anche dei for fun, insomma ragazzi siamo sempre cercando di elaborare cose nuove su SimDrivers, nella speranza che vi possa piacere, che vi possiate iscrivere, come ad esempio la for fun ieri delle mini che è stata veramente spettacolare, anche ci sono stati problemi tecnici per quanto vi riguarda, anche per la live dove ci sono stati dei picchi di visualizzazioni enormi, quindi grazie a tutti voi che ci seguite, non esitate ad iscrivervi, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao! Ah ragazzi ricordatevi, iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi piace, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!